ciao a tutti ragazzi ben ritrovati qui sul mio canale un bacione da vostro Paolo Inter allora video che non parla sempre dell'Inter intanto mi auguro che stiate tutti bene siamo diciamo in dirittura d'arrivo della partita di domenica siamo un po' diciamo speranzosi che l'Inter possa andare a Roma a fare risultato ma in questo video non parlerò appunto di Roma Inter ma volevo affrontare quel discorso appunto che la notizia che circola già da qualche giorno riguardo quella trattativa appunto che sembra ormai comunque in fase avanzata quella trattativa che c'è tra SUNY e BC Partners che riguarda la cessione appunto di quote azionale dell'Inter bisogna capire se volevo infatti dire la mia in questo video voglio un po' esprimervi la mia opinione a riguardo e un po' come la vedo io, come la penso io bisogna capire se la BC Partners sta mirando a delle quote intanto bisogna capire se sta mirando a delle quote minoritarie dell'Inter o a tutto il pacchetto dell'Inter e il discorso di acquisire tutto il pacchetto dell'Inter è comunque un'ipotesi che non è da escludere nonostante le varie smentite di Zhang Junior di Steven Zhang che ha detto che non ha nessuna intenzione la famiglia Zhang di cedere l'Inter però io sinceramente ragazzi mi fido poco ogni tanto permettiamo che BC Partners è un fondo di investimento che viene denominato un private equity come tipo di fondo di investimento del Qatar, quindi arabo, Qatarota che di solito fa parte di una categoria di quei fondi che di solito non punta a ottenere soltanto delle quote minoritarie in un club, in una squadra ci sarebbero due possibilità, la prima è che appunto voglio acquistare per intero tutto il pacchetto azionario dell'Inter la seconda potrebbe essere diciamo la seconda possibilità appunto di questa trattativa potrebbe essere la garanzia appunto che la sua quota appunto venga riacquistata dopo chiaramente il sovrapprezzo dopo due o tre anni da chi detiene chiaramente la quota maggioritaria in questo caso sarebbe Suning entrambe le operazioni permetterebbero quindi a Suning se chiaramente si riescono appunto ad attuare una delle due permetterebbero in tutti e due i casi di creare liquidità quella agognata liquidità di cui vi parlavo anche nei miei video precedenti necessari appunto per un aumento di capitale dell'Inter e per soprattutto anche per rifinanziare quei due bond quei due bond che scadranno nel 2022 di 375 milioni l'uno non voglio fare un discorso finanziario perché non me ne intendo di finanza chiaramente sono notizie che ho letto però potrebbe essere anche questa entrata in gioco di questo fondo catarotta potrebbe essere anche una soluzione appunto ai problemi dell'Inter in teoria BC Partners potrebbe acquistare l'Inter per circa sui 400-500 milioni accollandosi quindi anche il debito persistente che si aggira netto che si aggira sui 350-400 milioni però di contro Suning al momento attuale non avrebbe interesse appunto ad accelerare appunto questa cessione appunto per il fatto che la famiglia Zang a suo tempo investì appunto per la nostra Inter sui 950 milioni quindi in questo momento ci perderebbe ecco quindi forse da quel lato lì chiamo un'operazione lontana questa un'altra cosa da chiarire sicuramente anche per tranquillizzarvi anche perché non vi allarmate è che sia l'Inter che sia Suning non sono in crisi finanziaria chiaramente il Covid ha peggiorato un po' le cose perché ha dato purtroppo ha fatto sì che abbiamo bisogno di liquidità come al pari di tanti altri clubs di calcio un grande bisogno di liquidità e poi ci sono vari elementi anche ambientali come ad esempio le restrizioni del governo cinese che ha cambiato strategia sull'investimento nel calcio e quindi ovviamente la famiglia Zanchi dovrà tenere a quello che dice appunto il governo del suo paese e poi ricordiamoci che l'Inter è in perdita e il Covid quindi non ha fatto altro che peggiorare appunto la situazione dando un po' una sorta di copo di grazia sostanzialmente quindi il progetto di BC Partner sarebbe quello di migliorare diciamo la situazione dell'Inter infatti da quel lato lì non la vedo come diciamo un'ipotesi diciamo negativa una possibilità negativa quella che in questo fondo possa acquisire tutto il pacchetto sicuramente ci migliorerebbe la nostra situazione aumentando i ricavi controllando i costi e soprattutto anche azzerando il debito e le perdite e sportivamente parlando praticamente farebbe diventare appunto la nostra società un club virtuoso come tanti altri europei che ci sono famosi anche nomi famosi è un club che viva sulle proprie gambe e non e non deve sempre essere finanziato così esternamente come accade purtroppo in questo momento quindi in questo caso bisogna provvedere ad esempio a un taglio degli stipendi quelli più alti e a creare plosolenze quelli sarebbero i due elementi fondamentali appunto per per far sì che l'Inter possa diventare un club virtuoso come alla stregua di tanti altri che ci sono appunto in Europa e nel mondo niente ragazzi questo è un po' quello che questa è un po' la situazione io vi aggiornerò comunque nei miei prossimi video riguardo questa attrattativa come vi aggiornerò su tutto quello che accade nel mondo Inter io sono diciamo ottimista nel senso che anche un'eventuale cessione di Suning non la vedo proprio in maniera negativa non credo che sia un qualcosa di difattibile in questo momento perché anche se non credo interamente al 100% le parole di Steven Zhang credo che adesso si sta cercando diciamo che l'obiettivo di Suning in questo momento è quello appunto forse di creare liquidità facendo sì che questo nuovo acquirente possa contribuire appunto nella spesa totale dell'Inter acquisendo appunto delle quote minoritarie che secondo me si aggireranno circa al 20-30% appunto del pacchetto totale del pacchetto della quota azionaria totale staremo a vedere io vi aggiornerò nei miei prossimi video ci vediamo per Roma Inter per la mia live di domenica alle 12.30 mi raccomando voi continuate sempre a seguirmi e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e vi saluto sempre con la mia solita frase amala sempre amala 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 Grazie a tutti.